ragazzi buonasera dalla vostra dma come state tutto bene io spero proprio di sé allora ragazzi stasera vorrei appunto parlarvi di un integratore che da quasi la settimana l'ho provato quindi volevo parlare di questo integratore che appunto ho preso da amazon che sarebbe questo qua si chiama peperine strong che praticamente è un integratore alimentare a base di questa sostanza peperine che appunto serve per aiutare con il metabolismo nel senso che lo fa velocizzare e aiutare anche a più che altro a sciogliere i liquidi io per una settimana l'ho provato ma questo fantastico integratore che appunto l'ho preso da amazon non solo aiuta a migliorare il metabolismo una cosa molto particolare ti toglie il senso di fame c'è praticamente chi ha tacchi di fame appunto questa integratore serve appunto per aiutare chi ha molto alla sensazione di come posso dire ha praticamente molta fame a tipo le attacchi non so prima di pranzo a non lo so il cosiddetto spuntino prima del pranzo che è una cosa sbagliatissima non è che farò spuntino proti ingossi questo infatti non va bene allora io da quando ho provato questo diciamo che in una settimana ho visto dei miglioramenti su di me più di tutto ti fa anche perdere peso ovviamente questo integrato si abbina con una dieta equilibrata non è che tu ti prendi questo integratore e poi scuola ragazzi basta finitra scusate rai i miei cari rompono un po le scatole che purtroppo c'ho una pitbull un cavale che comunque non a secolo proprio però il cavale che sarebbe silver fa un po il prepotente che si vuole mangiare tutto vabbè allora tornando al discorso questo integratore appunto aiuta per chi ha problemi a livello di tipo come di tiroide chi ha il metabolismo dentro o per chi ha attacchi di fame che appunto serve per placare la fame io l'ho provato come ho detto per una settimana e mi sta funzionando la fame non ho più come prima infatti voglio mangiare poco e niente quindi va molto bene per chi ha questo problema qua allora vi dico che cosa contiene questo questo integratore praticante c'è estratto concentrato di pimenta pimenta caiena poi c'è la guaranà poi c'è l'estratto di pimenta negra la piperina il e la collina e poi mi sa che c'è anche il pepe praticamente questi qui io un consiglio vi do quasi dice di usare una pillola al giorno però io che porto sì ma la pillola per me non va bene magari per le 32 però chi ha problemi di gastrite perché questo essendo un integratore molto forte a base di di piperina da problemi di bruciore quindi secondo me non hanno questi problemi vi consiglio di prendere due e questo è quanto qua se voi adesso magari io vi lascio il link sotto dove l'ho comprato da amazon e questo è uno dei più venduti consigliato appunto da amazon prime per chi vuole fare avere un divagrimento molto più veloce ovviamente questo funziona con una dietro equilibrato vabbè tornando a questo fatto qui tornando a un'altra cosa oggi stavo parlando con il mio caro amico massimiliano non so oggi stiamo parlando di che ci sono molte donne femministe che poi addirittura mi hanno anche certe volte accusato in alcuni video che ho appunto parlato di pinocchio non dico di chi capite voi che mi state seguendo di che io praticamente sarei una femminista che difendo solo le donne ma in realtà io non difendo proprio nessuno io difendo me stessa e non faccio tuttora è un fascio madonna basta scusate ragazzi ancora i cani stanno facendo un po i monelli oggi vabbè comunque puzzopando di questo io mi sono sempre chiesta chi è femminista maggior parte sono quasi tutte lesbiche perché non possono vedere l'uomo quindi allora avvalgono molto i valori sulla donna che per carità non dobbiamo dire che tutti gli uomini sono uguali che sono violenti sono stupratori sono più sono cattivi sono traditori sono in una facenti questo non è per niente vero ci sono uomini che sono una benedizione io per esempio vi parlo del mio ragazzo francesco che appunto io parlo di cofrenchi il mio ragazzo praticamente è uno dei pochi uomini chi ama veramente la propria donna lui mi rispetta mi adora e silve che rompe le palle devo stare proprio vicino a lui che stavo appunto dicendo che lui mi adora e mi ha amato dal primo giorno che ci siamo visti lui mi rispetta in tutte le mie decisioni che prendo ovviamente io non comando ma lo decidiamo insieme infatti l'altra volta l'avete visto nel video precedente che ho fatto della passeggiata su trani quindi lui comunque è un ragazzo meraviglioso infatti domani faremo l'anniversario che ci conosciamo da due anni infatti poi noi dopo due mesi ci siamo messi insieme il 22 luglio del 2018 poi infatti noi nel 2019 di agosto poi pensate che mi fece la proposta di matrimonio il giorno che andammo a cofu in grecia e vi dico sono scoppiata a piangere veramente di gioia per dire che questo ragazzo dopo un anno mi ha chiesto di matrimonio ora diciamo non ci vedete chi sta qua guardate le mie mie due amori comunque io quello che voglio dirvi che non adesso stiamo pensando andare a convivere per ora il matrimonio in questi tempi non c'è neanche bisogno di organizzarsi per questo fatto di questo cazzo di coronavirus che purtroppo che dobbiamo fa purtroppo diciamo non si può festeggiare abbiamo rimandato tutti quanti nel 2021 diciamo nelle salice di menti e appunto nel 2021 una delle mie care amiche ha rimandato in matrimonio che comunque quest'anno si devono sposare pensato a luglio si devono sposare e l'ho rimandato a settembre dell'anno prossimo c'è ma fa ragazzi che dobbiamo fa viviamo il giorno viviamo il giorno per giorno che ogni giorno porta le sue ansietà è anche un proverbio biblico questo che dire ragazzi io vi auguro buona serata io vi lascio appunto il link dell'integratore che ho provato sperando che anche a voi funziona poi ovviamente quando lo provate dopo una settimana ditemi sotto i commenti la vostra esperienza vi auguro una buona giornata dalla vostra tema ciao amici